allora eccoci qua come mi avevi chiesto una scala a tre elementi abbiamo subito pensate realizzata per voi questa qua è la classica scala indus filo che si chiama quella che normalmente si allunga questa senza bisogno di dover stringere nessun bullone è una scala telescopica perché mediante questo meccanismo chiamato meccanismo a virgola lui solleva si solleva anche manualmente e si incastra secondo il gradino che devi raggiungere questa scala può essere usata da appoggio quindi chiamiamola affetto oppure nel caso specifico ci abbiamo fatto queste questa barra distanziatore e questa rampa di chiamiamola così di appoggio il quale permette alla scala di estendersi anche oltre l'altezza opzione naturalmente due tre gradini devono restare ancorati uno dentro l'altro e a questo tipo di scala abbiamo fatto anche la barra stabilizzatrice che prima non c'era è una scala veramente buona robusta e sicura i gradini sono ribordati come puoi vedere sia dall'esterno che dall'interno il gradino è abbastanza largo e poi quando sali c'è la possibilità di mettere il piede lo mettiamo in questo modo il piede poggia su due gradini quindi anche molto comodo da salire questo è tutto viene viene a testarla qua direttamente nel mio negozio ti aspetto e ti auguro tanto tanto buon lavoro grazie